spezzo le parole osserva i disegni e con i nomi delle figure spezzandoli in piccoli suoni per ciascun suono metti il dito su un quadratino qui abbiamo sei immagini la prima immagine è una arte arte a p e la seconda immagine è una foca foca f o c a la terza immagine è una tigre t i g r e la quarta immagine è un tavolo t a v o n o la quinta immagine è un delfino d e f n o la sesta immagine è un elefante e l e f a n t e a v o n o la sesta immagine è un delfino